L'ex parlamentare e segretario della Lega Romagna Pini ha i domiciliari in un'inchiesta su corruzione della procura di Forlì, coinvolti anche funzionari dell'Ausl Romagna, nel mirino una fornitura di mascherine. Un'auto con 5 giovani a bordo si è ribaltata in via Montescudo all'altezza di Montetauro, tanto spavento ma nessun ferito grave. Al via le iniziative di Rimini Formutoco, da 23 anni a sostegno della missione fondata da Marilena Pesaresi in Zimbabwe, oggi la presentazione. La grande fotografia ancora protagonista a Villa Mussolini di Riccione, la Parigi più suggestiva nella mostra Uncertaine Robert d'Oasno, inaugurata ieri sera. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, una grossa operazione che oggi ha scosso l'opinione pubblica romagnola, scambi di favori tra due personaggi di primo piano nella politica nazionale, uno qualche anno fa, uno invece ancora in carica. L'indagine, partita dalla Procura di Forlì, ha portato ai domiciliari anche un ex parlamentare romagnolo e coinvolge figure dell'Ausl Romagna. Vediamo. Dalla Procura di Forlì una maxi operazione con 34 provvedimenti di custodia cautelare e sequestri per 63 milioni. L'indagine riguarda episodi di corruzione ed è scaturita da un'inchiesta su un traffico di droga tra gli arrestati ai domiciliari, anche l'ex parlamentare forlivese della Lega Gianluca Pini, oggi imprenditore nell'import-export e nella ristorazione. L'altra figura chiave è l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, assessore all'ambiente della Regione Calabria, immediatamente sospeso ed ex assessore del Comune di Roma, anche lui e ai domiciliari. Secondo le intercettazioni, Minenna aveva consolidato un rapporto con Pini, dando vita a un vero sistema, con scambi di favori e stando al PM forlivese un pactum sceleris. Pini, da parlamentare, avrebbe promesso a Minenna di accreditarlo all'interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a direttore generale dell'Agenzia delle Dogane, a seguito del cambio del governo, nomina poi effettivamente confermata. Minenna avrebbe messo come contropartita l'asservimento della sua funzione pubblica, come per le richieste di Pini in occasione di importazioni di merci, fra cui una fornitura di 3,3 milioni di mascherine dalla Cina all'Ausl Romagna per un valore di 6 milioni di euro avvenuta nel 2020 in piena pandemia. Arrestati su disposizione della DDA di Bologna anche funzionari della prefettura di Ravenna e dell'Ausl Romagna. Pini, cinquantenne, è stato in Parlamento con la Lega per tre legislature fino al 2018 e per oltre un decennio è stato segretario della Lega per la Romagna. Nella tarda mattinata di oggi una Skoda Fabia con cinque giovani a bordo si è ribaltata in via Montescudo all'alteffa di Montetauro finendo a lato della carreggiata. I cinque passeggeri a bordo con lesioni di lieve e media entità sono stati trasportati agli ospedali di Rimini e Riccione. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dall'auto e la polizia locale intercomunale per la ricostruzione della dinamica e la gestione del traffico. È rimasto fortunatamente leso il bambino caduto questa mattina dal balcone di un residence di Torre Pedrera. Il piccolo si sarebbe sporto troppo perdendo l'equilibrio e finendo in un piano sottostante. Vista l'età per precauzione e come prevedono i protocolli di sicurezza, è stato portato dal 118 all'ospedale Bufalini di Cesena per i dovuti controlli. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha emanato un'allerta per temporali che sulla provincia di Rimini per domani è gialla, il livello più basso in vista dei possibili rovesci. Per domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale della regione e in particolare lungo la fascia costiera in serata. Per sabato è previsto poi anche un calo delle temperature. Sono state presentate oggi le iniziative di Rimini Formutoco, l'iniziativa che da 23 anni raccoglie fondi a sostegno della missione in Zimbabwe fondata da Marilena Pesaresi ma che quest'anno sarà anche destinata a realtà locali, anche per i territori alluvionati. In municipio c'erano anche degli ospiti particolari. Vediamo. I tornei di pallavolo e tennis in spiaggia, quelli di Burraco al campo di Don Pippo, la Run Rise in spiaggia all'alba del 15 luglio. Rimini Formutoco conferma i suoi appuntamenti estivi ampliando i propri partner e quest'anno con un ospite speciale, Massimo Migani, che ha ereditato da Marilena Pesaresi la guida dell'ospedale di Mutoco. Io la prima volta che andai in Zimbabwe era il 2005. Rimini Formutoco era un torneo piccolino con un hobby proprio Giorgio e gli amici sulla spiaggia da giocatore di beach volley, un po' così, amatore, ma vabbè. Quindi negli anni l'ho visto, mentre maturava la mia scelta di missione, negli anni loro crescevano anche come divulgazione, come coinvolgimento della città. E devo dire che le cose che sono state fatte sono tante, tante. Cioè qui proprio c'è veramente, è qui il senso di gratitudine, la bellezza veramente di una città che pulsa e che sa travolgere, coinvolgere per il bene. Quando ho conosciuto Marilena ho dovuto per forza aiutare Marilena perché lei era unica. Quindi dopo sono arrivati personaggi, sono arrivati amici, ci sono mucchiata moltissima gente e siamo arrivati a questo punto, insomma. Questi bei progetti che sono importanti, aiutiamo veramente tanta gente e lo facciamo sempre con sorriso, quello che possiamo fare è questo. Alla presentazione ospite anche Tadiwa, una delle bimbe è arrivata in Italia per operazione cuore con la mamma Cido e la famiglia che la ospita a Rimini. In casa nostra è stato possibile ospitare questi bambini con le mamme che vengono sempre accompagnate con una mamma e quindi abbiamo iniziato questa esperienza dieci anni fa e ogni anno teniamo un bambino con la mamma per i mesi che servono, ma in genere servono due o tre, non è che serve un impegno eccessivo e fanno parte della nostra famiglia anche loro. Dopo l'anteprima di ieri sera ha aperto oggi a Villa Mussolini la mostra fotografica Ancertain Robert Duasno che resterà esposta fino a novembre dopo Erwitt, McCurry e gli scatti su Frida Kahlo è la quarta proposta che trova casa nelle sale della villa. È la Parigi poetica, gioiosa, desiderosa di vivere degli anni del dopoguerra quella raccontata dagli scatti di Robert Duanot tra i più apprezzati fotografi del XX secolo autore dell'iconico Bacio all'Hotel de Ville. L'esposizione con 140 immagini in bianco e nero e a colori è stata inaugurata a Villa Mussolini dove resterà fino al 12 novembre. Tutta la sua produzione è un'ode alla città di Parigi non a quella ufficiale, a quella glamour ma alla Parigi delle banlieue, dei faubourg della piccola borghesia, della povera gente della vita notturna diciamo ha colto questo tutta la vita e quindi la mostra inizia con Parigi e poi con i parigini come la portinaia che sta in quel dove ancora si sente quell'odore di brasato che arriva fino al terzo piano. Una narrazione che ha trovato casa nelle sale della villa è diventata punto di riferimento per chi ama la fotografia ma non solo. Sono tanti infatti i turisti e i curiosi che passeggiando sul lungomare vengono attratti dalle mostre proposte. C'è proprio il senso del vivere una città pienamente che siano i bambini, i due bambini che vanno a comprare il latte perché capisci dietro che i genitori gli hanno dato i soldi gli hanno dato il contenitore del latte che andranno a prendere che siano due altri che non sono questi ma si facciano anche loro che siano due operai che stanno spostando una statua femminile e quindi le mani finiscono lui lo sapeva dove non dovrebbero finire ma è una statua, non è la realtà e quindi c'è un sorriso per ogni momento e questo davvero, questo senso forte del vivere lui lo dice bisogna essere proprio contenti ci sono dei momenti in cui ti accoggi che sei contento di vivere e lui lo trasmette dalle sue fotografie. Come queste mostre vengono vissute a Riccione è un modo speciale abbiamo un pubblico molto partecipe che partecipa sui social che partecipa postando le foto che aderisce alle numerose iniziative che vengono organizzate e quindi insomma ci dà anche molta soddisfazione. Tramite l'associazione Papa Giovanni XXIII oltre 4.000 euro saranno devoluti agli alluvionati della zona di Faenza grazie alla serata Un Calcio all'Alluvione organizzata ieri dall'associazione La Nuova Cagnona al Parco Pironi di Bellaria Musica, intrattenimento e divertimento ma soprattutto solidarietà Questi gli ingredienti della serata Un Calcio all'Alluvione organizzata al Parco Pironi di Bellaria Cagnona dall'associazione La Nuova Cagnona con il patrocinio della città di Bellaria e Giamarina Presenta anche il sindaco Filippo Giorgetti Tanti personaggi del mondo del calcio sono intervenuti a partire da Rigo Sacchi che ha messo in palio nell'asta benefica una tuta dell'Italia vice campione del mondo a USA 94 Per continuare con Fabrizio Castori che ha portato per l'asta la maglia di Kfaraschelia campione d'Italia con l'Innapoli e miglior giocatore del campionato di Serie A battute tra le altre la maglia indossata da Zapata dell'Atalanta in Champions League le maglie di Frattesi e Zaccagni e due maglie una della Last e una della Nazionale di Parolo anche ricchiute da noto due maglie delle Rimini all'asta anche le scarpe di Schelotto non solo calcio il campione europeo di Pesimei di Matteo Signani ha messo in palio i suoi guantoni mentre Giangorocca ha messo all'asta una sua maglietta tra aste, pesca, lotterie e vendita di magliette e cappellini della serata sono stati raccolti oltre 4.000 euro il ricavato andrà devoluto interamente alla Papa Giovanni XXIII per la zona di Faenza che è una zona che è stata molto colpita in questo periodo sono molto in difficoltà e cerchiamo di aiutare grazie alla Papa Giovanni XXIII e alla nostra Sara Foschi che abbiamo già fatto degli eventi in passato per lei che è stata in missione tanti anni in Bangladesh abbiamo fidato alla Papa Giovanni XXIII il nostro incasso la nostra serata e volevo ringraziare veramente proprio tutti i partecipanti dalle associazioni l'oratorio Sacro Cuore di Bellaria che è nato quest'anno che veramente si sono prodigati con me ad organizzare questa serata che era partita per fare una serata di sport e alla fine abbiamo deciso visto l'alluvione di poco più di un mese fa di fare una serata di beneficenza abbiamo coinvolto tanti calciatori allenatori avevamo anche il super top allenatore Arrigo Sacchi ringrazio tutti i partecipanti tutta la gente che c'era questa sera tutte le associazioni e tutti quanti perché il cuore è stato veramente grande e noi siamo molto contenti siamo in conclusione ci trovate anche online su icaroplay.it e newsrimini.it grazie per averci seguito dalla redazione l'augurio di una buona serata grazie per averci seguito